Si infiamma la volata in Liga. Per As.com il Madrid è disposto ad offrire una ricompensa al Granada se riuscisse a fermare il Barcellona. Residenz Traiano, sugli altipiani di Arcinazio. Prenotate, avrete uno sconto del 30% su pernottamento e ristorante. Come riporta As.com la Liga si va a decidere nell'ultima giornata con due aspiranti al titolo. Il Barcellona da una parte e il Real Madrid dall'altra. L'equipo blanco, quindi la formazione di Zidane, sarà attesa dalla sfida al Riasor contro il Deportivo La Colunia. Mentre la leader di classifica, ovvero il Barcellona di Luis Enrique, sarà di scena sul campo del Granada già salvo. Proprio nella città andalusa, come si legge dalle righe del Dias.com, comincia a farsi strada un Rumors che vede l'equipo blanco che possa offrire una ricompensa qualora il Granada riuscisse a fermare la compagine Blaugrana. E questo Rumors arriva proprio dal vestuario, esattamente dall'ex portiere dell'Udinese, dall'estremo difensore bianco-rosso, ovvero Ivan Kelava, che ha così dichiarato a gol. Non ci siamo allenati perfettamente in questa settimana per via anche delle celebrazioni per la matematica salvezza ottenuta. Infatti ricordiamo che il Granada si è salvato matematicamente grazie alla larga vittoria ottenuta, conseguita lo scorso fine settimana in casa del Siviglia. Però ha continuato l'ex numero uno dell'Udinese perché ha così analizzato. Per questa ragione è anche possibile che il Real Madrid ci possa offrire una ricompensa per fermare il Barcellona. Ovviamente questa cosa non è legale come si legge, non sarebbe un'azione legale prevista dal regolamento come si legge. Però AS.com poi sottolinea il fatto che ci sono molti giocatori del Granada che non hanno nascosto il fatto che preferiscono che a vincere la Liga sia proprio la compagine, nella formazione di Zilidin Zidane. Un giocatore che sicuramente vorrebbe che a vincere la Liga fosse proprio l'equipo blanco è Isaac Cuenca. Chi è Isaac Cuenca? Isaac Cuenca è un giocatore del Granada, cresciuto nella cantera del Barcellona, ma che col Barcellona si è lasciato in una maniera un po' burrascosa dopo un anno passato ai margini, messo fuori rosa, il calciatore ha deciso di riuscire alla Catalogna per andare a farsi le ossa altrove. Cuenca dimentica come si legge letteralmente, come si traduce letteralmente da AS.com, olvida il suo passato, dimentica il suo passato, sarebbe uno spasso, marcare, segnare al Barcellona. Per Audio Sport News, Flavio Maria Tassotti. Residenz Traiano, sugli altipiani di Arcinazio, a due passi da Fiugi, a un'ora di macchina da Roma. Per un weekend romantico, con gli amici, per la vostra settimana bianca, per le vostre vacanze. Residenz Traiano, sulla via Sublacense, immerso nel verde, con tutti i comfort e per il vostro piacere un ristorante ad hoc. Prenotate e ricordate il Tribunale delle Romane, avrete uno sconto del 30% su pernottamento e ristorante. Residenz Traiano, per evadere a due passi dalla vostra città.